Intendiamoci, una riforma dell'architettura istituzionale dello Stato è necessaria. Il nostro Parlamento non è uno dei più efficienti del mondo, non è neanche uno dei più inefficienti, anzi in realtà dati open police siamo più o meno nella media dei Parlamenti europei. Ma il problema, il punto, è che questa riforma costruisce uno scenario che potrebbe funzionare in un mondo perfetto, in un mondo ideale. Purtroppo, oggi come oggi, il problema grosso è un problema di selezione della classe politica. La riforma veramente necessaria era una riforma della governance dei partiti per provare ad affrontare il nodo della selezione del personale politico. Io credo che la riforma del Senato sia necessaria in questo specifico periodo storico, in questi anni. Prima di tutto perché una riforma costituzionale se ne parla da 30 anni, 33 anni. I padri costituenti avevano pensato a un assetto istituzionale perfettamente equilibrato, con un Senato che fa le stesse cose che fa la Camera dei Deputati, ma avendo uno scenario politico-partitico ben diverso da quello che abbiamo oggi, tendente a una struttura proporzionale. Oggi invece andiamo, anche a causa della legge elettorale, che negli anni si sono susseguiti, di tipo sempre più maggioritario. Serve una Camera che rappresenti gli enti territoriali al fine di portare direttamente in uno dei principali, del primo ramo del Parlamento, che con la riforma diventerebbe il secondo, portare le istanze del territorio. Perché il Senato potrà proporre delle leggi, non i senatori, ma il Senato nella sua integrità. E poi al Senato saranno affidati dei compiti, secondo me, molto importanti, come quello della verifica delle politiche europee sui territori. Una cosa è la composizione del Senato, una cosa è quale sarà la sua capacità effettiva di rappresentanza. Il problema è che le delegazioni delle regioni, degli enti locali, che sono designate secondo il risultato elettorale, dai consigli regionali, come si riuniranno una volta che arriveranno a Roma? Ovviamente si riuniranno per gruppo partitico. Quindi che cosa avremo in realtà? Un Senato che è composto da rappresentanze politiche, tanto quanto quello che abbiamo oggi. Il ruolo del nuovo Senato nel processo legislativo è quantomeno curioso, ossia si possono configurare due scenari, diciamo. Da una parte vi è la possibilità che il nuovo Senato sia relativamente irrilevante, oppure, al contrario, se interpretiamo in modo largo frasi come le politiche, le leggi, le normative prodotte dalle istituzioni europee, ci potremmo trovare ad un Senato che interviene pesantemente in tutta la legislazione che passa alla Camera. In realtà, condivido quello che ha scritto tempo addietro Walter Tocci, il senatore del PD, che ha detto che alla fin fine definirlo un Senato delle Regioni è, se non altro sul piano giuridico e politico, un inganno. La fine del bicameralismo paritario potrebbe comportare una maggiore rapidità nel procedimento legislativo, ma anche, al tempo stesso, una maggiore attenzione in quella che è la formazione di una legge da parte del nuovo Senato, perché il nuovo Senato non sarebbe, non è più composto da senatori che rappresentano la nazione tanto quanto i membri deputati della Camera dei Deputati, ma potrebbero dare dei consigli maggiori, anzi, non maggiori, di consigli migliori su quella che è la formazione di una legge da parte della Camera. A mio avviso, il procedimento legislativo può essere più veloce. Il nuovo titolo V si pone l'obiettivo da parte del legislatore di ridurre al minimo quelle che sono i casi di conflitto nelle materie concorrenti. La riforma del titolo V oggi delinea perfettamente quelle che sono le competenze dello Stato, delle Regioni. Secondo me il nuovo titolo V complica lo scenario del rapporto da Stato-Regioni per due motivi. Il primo è che riporta tutta una serie di materie allo Stato centrale, che prima per lo più erano normate sotto la legislazione concorrente, in un momento in cui ormai la giurisprudenza costituzionale si era assestata su tutta una serie di interpretazioni condivise, su dove finisse il potere dello Stato di definire i principi fondamentali e dove iniziasse il potere della Regione di gestire nel dettaglio tutte quelle materie. Adesso la legislazione concorrente permette una zona grigia dove gli interessi di Stato e Regioni potevano contemperarsi, anche scontrarsi. Adesso viene a mancare un luogo di confronto su questi temi. Proprio in virtù del fatto che le sentenze della Corte Costituzionale hanno stabilito nei diversi aspetti concorrenti cosa fa la Regione, cosa fa lo Stato, allora il legislatore ha detto, bene, nel nuovo titolo quinto definiamo con maggior chiarezza quali sono le competenze di Stato e Regioni. Ci sono materie che devono rimanere alle Regioni, ma ci sono anche materie di cui è lo Stato che si deve farsene capo, materie sulle quali è interesse nazionale. Cose come l'energia, le infrastrutture e anche il turismo ha senso riportarle allo Stato nazionale se e solo se mantengono solo una funzione pianificatoria. Perché poi sul territorio queste si declinano in grandi opere che disfano le valli montane, elettrodotti che attraversano le nostre Alpi, trivelle. Per dire alcune cose, queste sono tematiche che possono essere controllate se e solo se c'è un controllo forte delle Regioni sui poteri nel territorio. Ma poi abbiamo delle opere pubbliche che sono ferme da anni proprio perché c'è una Regione che ha ancora bisogno di tempo per valutare l'opera oppure perché i cittadini non sono ancora totalmente convinti. Cioè sacrifico un attimo oggi quello che è il contesto ambientale ma con la prospettiva chiara, netta e stabilita che quell'abitat io lo ricreo ma con un'infrastruttura e degli investimenti che poi mi ritornano indietro. Nel paese della Brebemi non so quanto tutto questo rimanga un'utile speranza. Allora una velocizzazione dei lavori parlamentari credo di sì perché sulle leggi nelle quali c'è la volontà di una parte politica si approva rapidamente in poco tempo. Certo non deve essere il principio cardine la velocità deve essere la velocità laddove una legge rischia di incunearsi in un tunnel e infilarsi in un tunnel senza fine dalla quale non uscirà più. Su quello che riguarda invece la riduzione dei costi della politica io non trovo che sia una delle ragioni principali. è la risposta a delle istanze che sono arrivate, sono emerse dalle elezioni, io penso a quelle del 2013 dove al grido dell'antipolitica, della riduzione dei costi, della casta allora chi ha scritto la riforma, i partiti che si sono coalizzati per scrivere questa riforma hanno pensato anche di non attribuire nessun tipo di indennità ai senatori, all'abolizione del CNEL ci sono delle stime, la ragioneria di Stato parla di 57 milioni ma riguarda il Senato e il CNEL c'è invece il governo che parla di 500 milioni a mio avviso la verità sta nel mezzo. Allora sul fronte dei costi della politica innanzitutto la Corte dei Conti ad oggi che sembra essere una delle stime più attendibili calcola che il risparmio a regime dovrebbe essere tra gli 80 e i 100 milioni di euro sono noccioline per uno status però in realtà il problema è che bisogna distinguere tra costo e spreco un'istituzione parlamentare costa il problema è che se un'istituzione costa bisogna capire qual è il suo impatto nella vita delle persone il punto in realtà è capire se il processo legislativo diventa più efficiente non nel senso della velocità perché come diceva giustamente Federico la velocità in c'è non è un valore ma nel senso se avremo una migliore produzione normativa o meno secondo me fare buone leggi ha bisogno di tempo ha bisogno di ponderazione ha bisogno del contrario della velocità e anche in parte del contrario della facilità di approvazione di sicuro però ci si sposta verso un modello in cui il ruolo del premier è previnente non perché aumentano i poteri del premier ma perché aumentano i poteri della maggioranza di governo e quindi aumentando i poteri della maggioranza di governo aumentano i poteri del segretario del primo partito del primo partito che aveva la camera e quindi evidentemente del premier un rappresentante del fronte del sì una volta mi ha detto noi abbiamo fatto questa domanda perché vogliamo sapere con certezza chi comanda così dopo ogni cinque anni gli elettori sapranno che cosa scegliere e chi valutare anche qui sono diverse forme di democrazia io personalmente non credo nella democrazia del televoto in cui ogni cinque anni si decide che spellere dalla casa io personalmente sono molto più favorevole a una democrazia che è anche questo è un concetto ma una democrazia partecipata una democrazia vera in cui ogni giorno sacro santo i cittadini si prendono il faticosissimo fardello di portare avanti e di controllare l'azione dei legislatori non c'è il rischio di deriva autoritaria perché il potere del presidente del consiglio rimangono attuali ovviamente c'è una maggioranza molto forte che risponde a un governo e quindi non possiamo negare che c'è un governo che ha poteri un po' più forti ma sono dettati sì sono dettati dalla contingenza di questo periodo ma sono ormai 15 anni o anzi 20 dove c'è una legge elettorale che non consente mai di trovare un vincitore vero ma qualcuno si deve sempre accordare con qualcun altro e uno dice ma è giusto perché la politica deve essere accordo deve essere mediazione però c'è l'accordo e la mediazione interna ai partiti stessi il problema è che non vi è nessun sistema elettorale in Europa che garantisca la sera stessa di sapere chi è il vincitore perché il problema non è fare le alleanze è fare le alleanze all'italiana cioè andarsi un pochino a negoziare i sottosegretariati cercare di mettere al fano qui, lupi là l'ideale sarebbe avere questa riforma costituzionale con una legge elettorale che dà un governo stabile ma un governo che dialoga con le opposizioni noi abbiamo sempre avuto questa alternanza un po' di proporzionale, un po' di maggioritario il proporzionale col maggioritario il premio di maggioranza che viene dato non c'è il limite inferiore allora mettiamo la soglia oltre quale dare il premio questo né carne né pesce provoca poi delle malformazioni all'interno della maggioranza di governo e del Parlamento ma è il frutto ancora una volta degli accordi a ribasso sulla legge elettorale ma è questo il punto che continua a saltar fuori sia nei miei discorsi che in parte in quelli di Federico ossia la pochezza della classe politica che a Costituzione cambiata o non cambiata non cambia e questo è il punto attualmente se non altro della sorte del governo non mi preoccuperei più di tanto il peggio che ci possa capitare è di andare alle elezioni e visto che lo facciamo ormai così di rado non è una cosa così spiacevole certo ci saranno turbolenze sui mercati finanziari reagiranno molto probabilmente negativamente per il no molto meno che per esempio per le elezioni di Trump però non sarà una cosa particolarmente negativa per me il motivo di preoccupazione più grave in realtà ed è quello che mi sta più a cuore è la divisione che sto vedendo ogni giorno approfondirsi nel paese ogni giorno vediamo che che vinca il sì che vinca il no questa campagna condotta con toni urlati con fatica con scomuniche da una parte e dall'altra sta producendo un solco nel paese tale per cui che vinca il sì o che vinca il no la Costituzione che sia quella nuova o quella che rimane non sarà più riconosciuta come valida da una parte consistente del paese le regole della civile convivenza non saranno più accettate da stando ai sondaggi attuali più o meno la metà della popolazione ma dunque io non credo nella spaccatura del popolo nel senso di non riconoscere la Costituzione che vinca il sì o che vinca il no si tornerà il giorno dopo comunque al proprio posto di lavoro sulla proprio banco di università e si penserà al proprio futuro qui c'è da pensare a che forma istituzionale quindi poi di conseguenza che governo avere che decida del futuro del paese quindi c'è una diversa prospettiva credo anch'io che il governo Renzi in caso che vinca il no debba giocoforza rassegnare le dimissioni quindi se vince il sì ci sarà un graduale passaggio alla nuova forma istituzionale se vince il no si apre una crisi di governo e lì è un po' un salto nel buio nel senso che non è che i mercati non è che crollano che diventiamo l'argentina voglio dire no però una crisi di governo comporta secondo me il rischio di andare a elezioni l'anno prossimo e di ritrovarci con di nuovo tre poli al 30% che non combinano niente sono d'accordo sul fatto che molto probabilmente si avrebbe una piccola crisi di governo e si cercherebbe un esecutivo più tecnico o meno tecnico e un accordo in Parlamento per cercare di rivedere la legge elettorale di per sé a mio avviso non è un problema centrale ossia le sorti dell'esecutivo le sorti politiche personali di Renzi poi non sono centrali in questa scelta il punto secondo me è questo che il giorno dopo non succederà il patatrac che vinca il sì che vinca il no chi vuole cogliere l'occasione per dire votando no si crea la crisi di governo quindi questo governo che non mi piace si dovrà dimettere è l'occasione sbagliata qui si parla di cambiare l'assetto istituzionale del nostro paese in un senso a mio avviso migliore la scelta poi è tra cambiarlo e mantenerlo io dico sì alla riforma costituzionale perché credo che sia l'opportunità per avere un efficientamento del procedimento legislativo per avere una rappresentanza degli enti territoriali là dove conta cioè nel senato della repubblica è l'occasione anche per provare a dare a cambiare il nostro paese nel suo nel suo assetto principale perché è facile lamentarsi è facile dire no così la politica non funziona così i governi non riescono mai a combinare niente così i politici non fanno niente non lavorano è molto facile questa è l'opportunità dicendo votando sì per cambiare la situazione se uno vota no si ritrova tutti i problemi che abbiamo fino ad ora votando sì c'è quantomeno la speranza di un cambiamento già i padri costituenti avevano pensato di approvare questo testo costituzionale e vederlo all'opera come poteva funzionare qui abbiamo l'esperienza di come la nostra costituzione ha funzionato bene molto bene per l'80% ma c'è quel 20% che questa nuova riforma vuole cambiare e che sperimentandola potremmo capire se funziona o no secondo me sì dire no è difficile sembra negativo suona spesso conservatore è un rifiuto a cambiare in realtà il cambiamento non è positivo in se stesso anche un regresso è un cambiamento per esempio questa riforma questo cambiamento in realtà a mio avviso è un regresso il senato è pasticciato le competenze sono mal definite si rischiano sovrapposizioni tra le due camere in questo caso a mio avviso dire no è imperativo perché questa riforma il suo intento vero viene tradito dalle parole stesse di questi riformatori costituenti di questi nostri padri di questi nuovi nostri nuovi padri costituenti infatti loro dicono che si vuole chiarezza su chi comanda chi vince e dopo lui è libero di governare senza lacci lacciuoli senza l'impiccio di un parlamento che pongaveti controlli che magari sia un pochino più sovrano poi appunto il popolo voterà ogni cinque anni e deciderà che cosa è meglio per il suo destino se è questa la democrazia che si vuole che è una democrazia a partecipazione limitata prego prego assolutamente io voglio qualcosa di diverso non è l'architettura istituzionale oggi il problema principale ma è il modo in cui si fa politica è il modo in cui si porta avanti una democrazia faticosa costruita ogni giorno dove i partiti contano e quanto i voti che prendono in cui ci si prende il tempo per riflettere per portare avanti una dirigenza del paese che sia saggia equilibrata riflessiva lenta lo so sono temi faticosi però il problema è che se si continua a rincorrere la velocità con cui i mercati finanziari adeguano il loro rating si finisce forse per andare a sbattere grazie grazie a te